Bottiglie, Privé, Sfera e Basta, Soretielle, 102, 5, Eccolo lì in collegamento, Zoom con noi, ciao! Ciao, ciao! Come stai? Bene, tu? Molto bene, felici di vederti, anche se a distanza e comunque complimenti, perché stavo guardando... Sì, io ti dice l'ho una, mi sentite? Sì, sì, noi ti sentiamo, tu ci senti? Non mi sono calmo però. Sì, io vi sento. Mi vedo un'indicente, ora vi vedo e vi sento. Ah, ok. No, anche perché stavo per dire un po' di numeri, cioè tipo oltre 70 milioni di streaming, vogliamo parlare del New Music Friday, il 41 New Music Friday nel mondo, cioè poi vabbè, voglio dire, magari tu avevi la tua lista dei desideri, ma avere il proprio nome, avere Times Square a New York fa un certo effetto, oltre che in altri paesi del mondo, no? Sì, 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 sicuramente è stata una sorpresa, nonostante comunque abbiamo lavorato per raggiungere dei grandi risultati, sicuramente quelli che abbiamo raggiunto erano inaspettati, come hai detto tu appunto, vedersi a Times Square è una cosa che non apprezzo, è una figata. Beh, hai detto abbiamo lavorato, infatti avete lavorato intanto, c'è un team dietro questo progetto. Certo, 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 come dal primo disco a questa parte, team che vince non si cambia, e quindi siamo sempre noi, io, Charlie, Shablo, Jacopo Pesce, Universal Music e Highland, siamo riusciti a portare a casa anche questa volta direi un grande risultato. Come d'altronde dici anche nel tuo docufilm, un gruppo di amici è diventato un gruppo di lavoro, no? Che è lo stesso praticamente dagli esorti fino ad oggi. Esattamente. E poi avremo l'occasione quest'oggi, lo diciamo, visto che è uscito proprio alle 15, insomma, di vedere il video di Baby in anteprima, proprio per RTL 135, ma avremo tempo perché starà con noi, insomma, appena appena uscito. Intanto ci riascoltiamo Rockstar, ti va? Andiamo. Andiamo. Spera e basta con noi ospite, In The Flight, Rockstar. Spera e basta su RTL 125 in collegamento con noi per parlare di questo nuovo album, il progetto che si intitola Famoso, che già sta spopolando e non soltanto in Italia, va detto. Abbiamo citato prima J Balvin, ma tra gli ospiti di questo disco, tra l'altro tu qualche giorno fa nelle tue storie hai riproposto un'intervista fatta qui a RTL dove io ti chiedevo tra gli artisti internazionali qual era il rapper che più... tu hai fatto dei nomi e poi alla fine hai deciso che doveva essere Future. E Future è che l'abbiamo! E Future è stato. E quindi hai messo la spunta... Infatti non me lo ricordavo neanche di averlo detto, è stato assurdo rivedere il video. Ho pensato, cavolo, avevo previsto il futuro senza manco saperlo. Hai previsto il futuro? Non so tante altre cose, ho predetto senza saperlo. E come è andato il contatto diretto con lui, insomma, poi per realizzare il pezzo? Beh, è stata sicuramente una bellissima esperienza, anche perché appunto Future, cioè oltre ad essere uno dei miei rapper preferiti, penso sia comunque uno dei rapper più... ma più di successo mondialmente. È stata una grossa responsabilità, anche se poi, se devo dire la verità, il pezzo io a Bracadabra l'avevo registrato qua in Italia. Quindi già ce l'avevo. Comunque ascoltandolo, anche senza la sua strofa, percepivo che poteva essere una grossa hit. Appena gliel'abbiamo mandata, lui subito gli è piaciuta e ha mandato indietro la strofa. Poi c'è anche un'altra collaborazione, dopo aver fatto quella con Quavo, hai deciso di prenderne un altro tratto proprio dai Migos, poi magari nel prossimo disco prenderei anche Take Off e così facciamo il completo. Però tra gli ospiti proprio di questo album c'è anche Offset nella canzone Macarena. Offset, sì, esatto, anche Offset, Lil Mosey, Hari dal Marocco. Diciamo che abbiamo spaziato, vabbè ovviamente J Balvin, Marrakesh, abbiamo deciso di spaziare un po' con i featuring di quest'album appunto per pescare un po' tutti i differenti sound in giro per il mondo. Ed ora Notti. Notti, Sfera e Basta, Soretiella è 125 alle 15, senti questi uccellini che cantano e come dicevamo prima non soltanto l'album famoso ma anche un documentario, un docufilm diretto da Pepsi Romanoff con un po' la cosa particolare, e correggimi se sbaglio caro Joe, non è soltanto un documentario su come è iniziato o le fasi semplicemente del disco, ma la cosa bella, almeno a mio parere, è quella che tu hai raccontato, hai fatto parlare proprio tutte le persone che sono nella tua squadra, cioè sono presenti i racconti di ogni singola persona che lavora con te o che ha avuto a che fare con te, anche per dire la ragazza che suonava, che avete beccato in chiesa, che avete chiamato poi in studio per suonare per il disco, insomma, tante piccole cose che fanno un racconto completo. Come ti è venuta l'idea di fare questo docufilm? Beh, in realtà avevamo già tantissimi video che avevamo realizzato comunque durante i tour, durante gli spostamenti, le sessioni studio e che erano rimasti tutti nel computer e non avevamo mai pubblicato. L'idea poi di metterli insieme, di creare appunto questo docufilm è venuto un po' in maniera spontanea, nel senso appunto pensavamo che comunque i fan erano interessati a sapere quale fosse il processo dietro il mio lavoro, dietro il mio personaggio, dietro tutto quello che gira intorno a me. Il fatto di tirare in mezzo la mia squadra è anche quello che è stato naturale, perché appunto sono le persone che mi girano più attorno e che probabilmente nessuno meglio di loro può raccontarmi anche agli occhi di chi non mi conosce oltre che a quello dei fan. E invece dicevo che al 378, 378, 135, sono in tanti a conoscerti ma proprio dagli esordi, allora Barbara che scrive, saluto il famoso che per me sarà sempre Johnny, e dice ditegli ogni tanto di venire a trovare gli ex datori di lavoro, quindi qua sei proprio agli inizi della gavetta, della vita. Vabbè, sì sì sì, ho cambiato anche una cifra di lavori. È per quello, ti fa onore questa cosa. E questa è una parte che viene... Ho fatto la gavetta vera. È certo. È una parte che ha ben raccontato all'interno del documentario proprio sua mamma, che racconta che insomma per inseguire quel sogno però lui doveva anche lavorare, quindi ha fatto l'elettricista, ha fatto tante cose, quindi insomma non è che succede tutto così overnight, come dicono in America, da un giorno all'altro. Complimenti. Lavoraccio e credito. Certo, spero e basta con noi, restate lì perché ritorniamo con Ricchi per sempre. Ricchi per sempre e spero e basta quest'oggi ospite all'interno di The Flight. Vogliamo fare proprio tutta la tracklist dell'album? A cominciare da Bottiglia Private, prodotto da Charlie Charles ovviamente. Poi abbiamo detto Abra Cadabra con Future, poi c'è Baby con J Balvin e oggi ci vedremo il video, quindi non perdete questo appuntamento. Abbiamo nominato Offset, che tra parentesi è anche il marito di Cardi B, tanto per dire. Così. Oltre a essere Nemigos con Emma Carena. Poi c'è Hollywood con Diplo e poi ancora Marrakesh, Guè Pechegno per TikTok e ancora la canzone Male, Giovane Re e poi Gelosi, sei del mattino. Salam Aleikum con Steve Eocchi. Tra l'altro, prossima volta che vai a casa di Steve Eocchi, chiamaci che vorremmo... Cioè, nel documentario si vede la casa di Steve Eocchi e loro che saltano. È una roba assurda. a Las Vegas, vero? Sì, a Las Vegas, esatto. Ho questa casa appunto che è finita anche su svariati programmi TV, Fabulous, Crib, MTV, eccetera, eccetera. È davvero incredibile da vedere, almeno una volta nella vita è come andare in un museo. Poi eravamo arrivati a Gang 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 con Lil Mosse e poi c'è il Freestyle, Sfera e Basta, finale. Poi c'è Londo, una track tra gli altri collaboratori che per dire ha prodotto l'ultimo successo di Ariana Grande per dire... Tra le altre cose. ...la levatura, capito, artistica. Insomma, come è stato riuscire... Cioè, è stato alla fine più semplice di quello che pensavi riuscire ad avere tutti questi ospiti, tutti questi guest, questi collaboratori? Beh, diciamo che appunto come ti stavo dicendo prima è stata una cosa abbastanza che è venuta spontaneamente, naturalmente. Cioè, probabilmente se due anni fa mi fossi messo a pensare che dovevo realizzare un disco di questo giallo e mi fossi messo a un tavolo a pensare come farlo sarebbe stato molto più difficile. Devo dire che comunque ho avuto anche la fortuna di molte volte di riuscire a essere nel posto giusto, al momento giusto, riuscire a beccare le persone giuste che poi mi introducevano ad altre persone. Quindi diciamo che non è facile pianificare un successo del genere ovviamente va pianificato, però diciamo che è sempre un mix tra scelte che fai ponderandole e eventi che ti capitano naturalmente. E per fortuna che capitano, perché sentite cosa è arrivato? È in anteprima video per RTL Baby con J Balvin. Baby, Sfere Basta insieme a J Balvin è uscito esattamente 32 minuti fa ufficialmente il video a livello mondiale, quindi noi ve lo proponiamo per la prima volta. Raccontaci qualcosa di questa collaborazione. Beh, innanzitutto è ovviamente scontato dirlo, è un onore per me essere riuscito a collaborare con un artista del calibro di J Balvin. Se devo dire la verità, manco a farlo apposta, nonostante sia probabilmente l'artista più grosso a livello di numeri all'interno del disco, allo stesso tempo è stato anche il più disponibile, il più, non so. Cioè comunque siamo riusciti a creare un rapporto di amicizia e si è davvero preso bene con il progetto, ha spinto l'album, ha spinto la collaborazione, è stato veramente un grande, quindi bella J Balvin. Tu tra l'altro avevi partecipato al suo remix, quello di Macica, no? Sì, diciamo che il rapporto è nato proprio così, con Macica Remix e poi da lì appunto abbiamo continuato a sentirci, ci siamo beccati, poi a Miami abbiamo fatto quest'altra It Baby che ha prodotto a Tosca e rompendo oltretutto, con cui mi ha messo proprio lui in contatto e niente, quindi ripeto, è stato veramente un grande bello a J Balvin. Ciao a J Balvin, lo salutiamo da un po' che... Tra l'altro anche nel documentario c'è J Balvin che racconta appunto come sono conosciuti e dice io sono arrivato in Italia e cercavo le mie canzoni e sentivo solo Sfera e Basta e poi ha detto per me come un fratellino praticamente, quindi insomma è un bel rapporto anche di amicizia che è nato tra di loro. Sì, è anche bello appunto come ci racconti queste collaborazioni che poi sfociano in rapporti veri e propri di amicizia, no? E magari quelli che tu sognavi, che vedevi lontano ti accorgi che sono molto più vicino magari di quelli che hai vicino tutti i giorni. Sì, sì esatto, poi comunque appunto alla fine dietro ogni personaggio per quanto sia grosso c'è sempre una persona e fondamentalmente le persone sono tutte simili quindi diciamo che quando poi riesci ad avere un contatto personale appunto ti rendi conto che siamo tutti umani che respiriamo tutti nello stesso modo. Esatto. Dicevamo che nell'album nuovo c'è Offset ma qui c'era Quevo, Sfere Basta. Cupido, Sfere Basta insieme a Quevo su RTL Centro e Cinque quest'oggi Sfere Basta, ospite collegato con noi. E c'è già, sono pronte le date del tour nazionale sottolineiamo nazionale perché questo vuol dire che c'è anche il tour internazionale del 2021. vogliamo dare le date? Eh sì. Allora. Che tu saprai sicuramente. Che tu guarda, tu il foglio, le so a memoria o il foglio casualmente. Casualmente ce li abbiamo qua. Quindi. Casualmente hai sott'occhio. Esatto, 11 settembre Rimini, il 13 e il 14 di Milano Mediolanium Forum, il 20 di settembre Bologna, il 21 a Torino, il 24 a Firenze, il 28 a Roma e il 2 di ottobre. Ebole, questo 2021, si torna nei palazzetti. Esatto. Carico? Esatto, esatto, esatto. Non vedo l'ora di tornare sul palco anche perché dopo tutta questa situazione penso che sia un bisogno non solo per me ma anche per tutto il mondo appunto degli artisti che comunque si è fermato. Quindi sono carichissimo, non vedo l'ora di portare i nuovi pezzi e di avere, si spera di nuovo, un po' di contatto con il pubblico. E visto che è un album ricco di collaborazioni, cioè cosa hai in mente poi per il live? Non so, come ovvierai? Averli tutti sarebbe l'ideale. Però vi farò avere dei biglietti ovviamente così potrete venire a vedere. Non voglio sconderare niente per ora. Però sicuramente avrete modo di venire a vedere. Io ci ho provato. Ho invito tutti quanti ad andare su Ticket One e comprare la propria preventa prima che sia sold out. Ecco, io ci ho provato. Siamo quanto prima di poter anche annunciare il tour internazionale 2021. Noi siamo qua, quando sei pronto ce lo fai sapere. Sì, 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 ovviamente guarda la volontà c'è. Speriamo di poterci spostare, di poter fare tutto quello che si viene. Incrociamo le dita, incrociatele anche voi per me. Vai. Ok, allora ci aggiorneremo per quello. Intanto le date ce le abbiamo. Se nel dirlo io vi è sfuggita o qualcosa date comunque su tutti i social di Sfera trovate tutte le date proprio precise. E allora continuate anche a scrivere. Stanno arrivando tanti messaggi ovviamente per Sfera al 378 378 102 e 5. Restate con noi perché tra poco ancora con Sfera e basta ancora per parlare di questo album famoso e magari di altre interessanti iniziative che lo riguardano e torniamo tra poco e ci riascoltiamo Trantran. Eh sì, che era il secondo singolo estratto proprio da Rockstar. Restate lì. Trantran, primo singolo estratto dal secondo album. Ecco, ho fatto un po' di mixtape anch'io, un po' di mashup. Sfera e basta quest'oggi. Ospite in the flight. E tra l'altro, prima della pubblicazione di questo album famoso, non è che sei stato così a far niente. Hai fatto anche un sacco di collaborazioni, no? Con Gueda, Supreme, Marrakesh, Shabllo. Vero? Shabllo, Jolier. Sì, 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 abbiamo fatto, cioè, nel senso, non sono mai stato fermo, non sono usciti i miei singoli, però, appunto, ho avuto modo di fare svariate hit, anche Dorado, con Mahmood. Come no? Eh certo. Siamo stati attivi, comunque. Ce lo ricordiamo bene anche alla Power It's Estate, ma adesso c'è proprio una bella scena italiana generale, la cosa che ci piace è che collaborate spessissimo fra di voi, e vi scambiate idee, progetti, cioè è molto viva questa cosa. Certo, certo, certo. Infatti, come dici tu, la scena è molto florida, ci sono tantissimi artisti, anche molto giovani, che stanno già dimostrando di essere validi. Speriamo, appunto, che comunque che continui così e che questo spirito di gruppo, appunto, non vada perdendosi, perché, appunto, ho sempre pensato che l'unione faccia la forza e per il mercato musicale italiano sicuramente è una cosa positiva. Visto che tra un attimo ascolteremo la tua canzone Hollywood con Diplo, ecco, come è nata? Non è proprio il primo artista che a me sarebbe venuto in mente pensando a un tuo nuovo progetto. Come è partita questa cosa? In realtà è partito tutto che un giorno sono finito sul suo profilo visto che mi seguiva. Comunque io non appunto vengo da un altro genere, però riconoscendo Diplo ho subito approfittato dell'evento per scrivergli e gli ho detto dovremmo fare una canzone insieme e la prima volta che sono andato a Los Angeles manco a farla apposta, lui non era in tour, non era da nessuna parte, era lì a casa e mi ha invitato in studio e abbiamo fatto Hollywood in un pomeriggio, quindi anche lì è stata una cosa abbastanza naturale. Gli ho scritto su Instagram e poi ci siamo beccati a Los Angeles. Hai capito? In realtà per quanto possa sembrare assurdo è stata una cosa tipo come... c'è una banalità, no? Eh no, però capito? È bello, è bellissimo invece, proprio perché è spontaneo. Eccola qua. Hollywood, sfere basta, featuring Diplo. Hollywood. Senti, sì, no, siccome ha parlato appunto che ha incontrato lui a Los Angeles, a Las Vegas, cioè ma com'è l'America vista in questo modo, con questi occhi, cioè mentre vai là e vai dei tuoi, insomma idoli o comunque personaggi con cui collabori? Un sogno, secondo me, cioè ogni volta che vado e dopo ogni session in studio, dopo comunque ogni avvenimento che fino a poco, fino a subito prima di realizzarlo mi sembrava irrealizzabile, appunto mi senti invincibile. Non so come spiegare la sensazione appunto. Tutto quello che hai sempre visto nei film, nei video e hai sentito raccontare comunque dagli altri artisti internazionali, lo stai facendo te e è incredibile. E vabbè, una domanda da 2 milioni di dollari, ma di tutte queste canzoni del nuovo album ce n'è una particolarmente importante per te? Ma guarda, non saprei, io sono affezionato ovviamente a tutte le mie canzoni, dal primo da per davvero a famoso. Ogni canzone ha la sua importanza, cioè quella con J Balvin è un passo importante, penso per la discografia italiana e quindi è importante per quello. Non lo so, Hollywood è importante per un altro motivo, è la mia prima sperimentazione un po' più rock. Bottiglie Privé è uno dei miei pezzi più introspettivi. Diciamo che non posso fare una lista di preferenze, a me piacciono tutte, quindi lascio che sia la gente a trovare la sua preferita, poi in mezzo a quello. E a giudicare però dalle classifiche di questi giorni dello stream e a quanto pare piacciono tutte. Eh sì, per quello, vedi? Tutte 13 sono andate direttamente, pom! Difficile dire quale sia e quale no, per me sono tutte sì. Senti, vedere la tua faccia a Times Square immagino faccia effetto, ma avere una targa in una piazza che effetto fa? Sono due emozioni indescrivibili, una a Times Square ovviamente penso che sia l'angolo di mondo con più gente che esista e quindi era uno di quei sogni che potevi avere da ragazzino. Tanto quanto quando ero un ragazzino a Cinisello e mai avrei pensato che ci sarebbe stata una piazza intitolata a me nel mio partiere, quindi sono due emozioni indescrivibili e sono grato. Bottiglie Privé, spero e basta, quest'oggi ospite in the flight. Che che fa casino lì? Jacopo Pesce, Schiaff, Siamo agli ultimi battute, allora ricordiamo le date. Sì, allora ce l'ho qua davanti, quindi partiamo dall'undice di settembre a Rimini e poi il tredici e il quattordici al Mediolanum Forum di Milano, data già annunciata, poi il venti a Bologna, ventuno a Torino, il ventiquattro a Firenze al Mandela Forum, al ventotto a Roma, al Palazzo dello Sport, per chiudere poi il due di ottobre a Eboli. Per ora, perché magari se ne aggiungeranno altre, no? Sì, 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 ovviamente tutto può essere, per ora le date sono queste, quindi rinvito tutti quanti a prestarsi ad avere il proprio biglietto. Bene, visto che siamo proprio ai saluti finali, vuoi approfittare di questo minutino per salutare i tuoi fans? Esatto, volevo appunto salutare e ringraziare tutti quanti i fan per il supporto, ringraziare il mio team Universal, Island e BHMG per avermi aiutato a realizzare questo disco. Niente, grazie a tutti quelli che stanno streamando, ascoltando, condividendo, tutti quelli che mi stanno scrivendo per complimentarsi. Ci vediamo presto live, Spera e Basta, famoso, fuori ovunque, bevi fuori su YouTube. Ci mancava, eh? Ci mancava! In attesa di poterti riavere qui fisicamente presente, che insomma è una gran bella cosa. Quindi insomma, grazie veramente. Ciao. Un abbraccio, un abbraccio. Grazie, grazie, grazie. Allora, ricordiamo famoso, questo nuovo album di Spera e Basta, che ha raggiunto livelli incredibili. L'album più ascoltato di sempre su Spotify nel giorno di uscita, sedici milioni di stream. E come dicevo, prima siamo a settanta milioni di stream. Cioè, hai capito. Il botto che ha fatto in pochi giorni.